A Battipagli i rifiuti della Castelluccio saranno trattati dall'Exostir. Davanti ai consiglieri comunali della Commissione Ambiente ad annunciarlo è stato il vicepresidente dell'Aggiunta regionale, Fulvio Bonavitacola, convocato per discutere della messa in sicurezza del sito di stoccaggio provvisorio di Castelluccio. Dall'incontro ha prospettato di intervenire sullo sversatoio in collina tramite la metodica d'escavazione dei rifiuti per inertizzare le frazioni pericolose e separare quelle recuperabili e riciclarle. Solitamente così si recupera una volumetria del 30% che sale al 50% con la pressatura, ma secondo Bonavitacola Battipaglia si potrebbe arrivare al 100%, questo svuotando totalmente l'invaso. E prospetta che si potrebbe realizzare grazie all'Exostir e con l'Aico Ambiente programmare è di non sotterrare nuovamente rifiuti non riciclabili, ma di trattarli all'ostir e rimuovere la discarica. Questa è la novità post-commissione Ambiente che potrebbe pertanto liberare tutto l'invaso. Un dato emerge chiaro, a ridosso del sito di stoccaggio andrà installato un impianto provvisorio di scavo e selezione attraverso espropi dell'area limitrofa, ma ovviamente tramite il progetto dei professionisti che si sono aggiudicati la gara di Regione e Invitalia, ma servirà a convocare a breve anche un tavolo di concertazione.